Io lavoro nell'azienda agricola e lavoro in macelleria per realizzare il punto venente. Abbiamo usufruito del piano sviluppo rurale della regione Marche e il punto venente è attivo da 20 anni. Ce ne occupiamo io e mia madre e macelliamo solamente bovini e suini da noi allevati. Ci occupiamo di realizzare insaccati, salumi, prosciutti crudi oppure carne fresca di venente al dettaglio. Per quanto riguarda il bovino, realizziamo pacchi famiglia di un minimo di 10 kg che la gente ci ordina. Quando abbiamo una certa quantità di carne ordinata, macelliamo il bovino che preleviamo dal nostro allevamento e poi il giorno prestabilito facciamo le carni. Grazie a tutti!